Doccia fredda per i tifosi della Scandone. Ieri GIP e il Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza delle quote della società cooperativa Guarracini e ha disposto il vincolo, convalidato quest'oggi, di 3,5 milioni di euro all'ex padron della Sidigas Gianandria De Cesare. L'operazione avviene in base alla domanda di concordato presentata dai legali della Sidigas, dove il rientro del debito sarebbe avvenuto a confinanza terza. La Procura ha rilevato che la proposta è stata avanzata da una società, la Guarracini per l'appunto, che sarebbe riconducibile a Mariaggia di Sorrentino e Bruno del Vecchio, e rispettivamente moglie e zio di De Cesare. Questi ultimi, il 6 maggio, avevano dato la disponibilità per garantire, con la finanza della Guarracini, il pieno di risanamento della Scandone e la società di basket cittadina. Dagli accertamenti della Procura è emerso che i beni immobili intestati alla cooperativa erano riconducibili a Gianandria De Cesare, di cui, di fatto, detiene la proprietà. Al tempo stesso gli accertamenti hanno rilevato lo stato di nulla tenenza da parte dei parenti dell'ex padron della Sidigas. Per aggravare la situazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso una proposta di scioglimento della cooperativa in questione, creando non pochi problemi nell'operazione di risanamento della Scandone. Ad essi i legali dovranno elaborare, in meno di 60 giorni, una nuova strategia per presentare il concordato preventivo richiesto al Tribunale di Avellino lo scorso 7 maggio. In aggiunta, quando evidenziato dalla Procura di Avellino, quest'oggi procuratore della Repubblica, Domenica in Roma, ha iscritto nel registro di indagati Gianandria De Cesare, per l'omesso versamento delle imposte dal 2014 al 2017, riconducibile alla Felice Scandone. De Cesare è indagato per alcuni reati collegati alla Sidigas SPA, quale falso in bilancio, messo a versamento dell'IVO, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.